La presenza che dovrà servire per dissuadere chi ancora non ha capito come si circola, aiutare a prendere il senso di marcia giusto e in certi orari renderci conto di quelli che possono essere i problemi, in modo da riferire affinché l'amministrazione eventualmente possa prendere le opportune misure. Soprattutto chi frequenta la città tutti i giorni viaggia più per abitudine che non perché guarda la segnaletica e quindi bisognerà capire questo cambiamento di abitudini cosa comporterà, cioè quante persone ora passano per raggiungere le zone tipo Castello, Lefrazioni, Mercatale e Moncioni e ora magari fanno la Chiantigiana e via Sugherella, quante di queste inizieranno a passare su via Bursagli? Sì, è un punto, questo direi, questo incrocio è un punto importante, c'è l'uscita dei mezzi dall'autostazione, sicuramente a qui usciranno i mezzi pesanti che sono costretti a gravitare per le attività che ci sono in questo tratto di via Bursagli, ce ne sono di attività che necessitano anche di mezzi più pesanti. Sicuramente una diminuzione probabilmente ci sarà sul Viale Diaz e sulla Chiantigiana, però potrebbe anche rivelarsi la cosa meno significativa nel senso di essere utilizzato questa modifica fatta oggi per i movimenti locali e quindi non per queste di più lunga percorrenza. Ecco, va capito che piega prende.